Ciao, sono Paolo Vacci e vi presento questo Granduca 265 TL, un profilato con letto posteriore nautico. Andiamo a vedere il suo esterno. Cliccate sulla vostra destra in alto, si aprirà la scheda del sito con le caratteristiche di questo campo, gli optional compresi lunghezza, chilometri e quant'altro. Poi iscrivetevi al canale YouTube e cliccate la campanellina, sarete sempre aggiornati su tutti i nostri video. Qua il letto sali e scendi, in questo caso è il punto più basso, anzi viene ancora più basso, oppure fino a qua. Quindi il volume variabile permette di inverno di salire facilmente sul letto e avere un contenitore più basso, d'estate eventualmente metterci biciclette e motociclette e avere un letto più basso. Qui sotto avete le misure massime e minime dell'altezza e la sua larghezza. Andiamo al suo interno, una bella porta con finestra, porte immondizie, zanzariera, accesso con la maniglia e salita. La zona giorno. La zona giorno c'ha questo bel tavolo che si gira come le soluzioni, come quelle attuali, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei persone. È luminoso, molto chiaro, quindi come vedete la luminosità è il tavolo bianco, quindi è molto accogliente. È una bella finestra apribile, con la sua oscurante e zanzariera. Poi un pensile sul lato sinistro e l'altro pensile sul lato destro. E qui un bel portaoggetti. Questo montante che tiene la struttura delle cinture, hanno sfruttato quindi due contenitori, un portasalviette, una vasca per l'immondizia differenziata e una bella vasca per lavandino, oltre ad avere i tre fuochi e un bel pensile sopra. C'ha il fermo che blocca tutta la cassettiera e ha il cassetto, l'altra cassettiera e poi l'altro sportello. Da quest'altra parte il solito blocco con la cassettiera e lo scorrevole e sottostante un altro scorrevole. Da quest'altra parte anche qui lo scorrevole col fermo e poi da quest'altra parte il televisore, come vedete lo scorrevole con il televisore. Sopra il frigorifero un enorme contenitore, frigorifero con congelatore e cestello portabottiglie. Hanno sfruttato anche questi spazi per poterci mettere un contenitore. La parte posteriore. La parte posteriore c'ha lo spazio doccia, come vedete è molto ampio, poi con la seduta, per cui anche per bambini è facile poterli lavare. il suo oblò e anche la stecca per metterci le cose bagnate che scaricherebbero in terra, quindi con l'acqua che viene raccolta e asciugano velocemente in quanto è uno spazio riscaldato. Poi la porta che divide la parte anteriore alla parte posteriore e poi la porta invece che divide la zona notte alla zona servizio e alla zona giorno. La zona notte ha questo ribaltino che quindi c'è un contenitore, poi vedete di fianco delle belle battute per poterci salire senza problemi. Ora io sono con le scarpe. Qua una bella finestra a sinistra, una bella finestra a destra e un grande oblò. Poi i pensili in fondo e questo è un contenitore che ci ha messo il cliente che però mi sembra abbastanza funzionale. Poi il letto ha questo sguscio che io sono un metro e ottanta. Eccomi qua. La larghezza è molto ampio. Qui quando è basso quindi è facile l'accesso ma anche quando è questa è la seduta, è la battuta e quindi quando il letto arriva a questa altezza vedete che è comodo. l'armadio di sinistra questo ci hanno lasciato il piumone e poi l'armadio di destra. L'altro letto qua in questo caso è molto comoda ma anche nel caso di porta chiusa lo stesso. C'ha la finestra e l'oblò. Una bella vasca per quanto riguarda il lavandino e il suo uso. Sotto c'ha un contenitore e qui anche piccoli contenitori oltre a questo qua. Il letto è un letto molto ampio la salita posteriore ma si può anche salire molto spesso anche dalle sedute anteriore. Protezione posteriore per bambini come questa e protezione anteriore. Quindi un bel letto matrimoniale e un matrimoniale posteriore. La possibilità di fare un letto anche in questa zona abbassando il tavolo. Quindi un camper da cinque persone due matrimoniali e un singolo un camper ben fatto e ben tenuto chiamateci così vi possiamo veniteci a trovare così vi possiamo offrire la nostra consulenza per poter scegliere il camper adatto per la vostra famiglia e le vostre vacanze perché il nostro motto è libertà di scelta perché abbiamo veramente tanti camper da potervi proporre e come sempre agli ottimi prezzi e servizi caravambaci. Ciao Ciao